Lei ha tra i vari hobby quello del gioco, in particolare le slot machine, che cosa le dà, che cosa la diverte? L'adrenalina? L'adrenalina, brava, e soprattutto è un momento in cui io mi trovo da sola con una macchinetta, la quale prende tanti calci da me, e dammi una cosa, e dammi un punto. Senta, è la volta in cui ha guadagnato di più. Io sono andata, mi ricordo allora avevo la residenza a Monte Carlo, e sono andata lì, ho fatto una scala reale, bellissima, allora è arrivato il tizio, il tempo che lui andava a farmi il biglietto per la vincita, che non ti dico neanche quanto, perché se no cadi dallo sgabello. Mi tengo stretta. No, per dire che per delle macchinette così, insomma, prendere 150 mila euro, fai conto, il tempo in cui andava a fare il bigliettino ne ho fatta un'altra, però guarda sono stata due mesi ferma senza lavorare. Ma quanto ha perso, quando ha perso il forte, la volta peggiore che lei se la ricorda? La volta peggiore, sempre inferiore comunque ai 5 mila euro. Io ho più vinto che perso, però questo non, vaglielo a dire alle persone che ti dicono... Che lei è ludopatica, lei si offende, dice non è vero. Ma è una bella parola questa, sembra veramente una malattia incurabile. No, figurati, posso stare benissimo senza, volevo tranquillizzare quelli che dicono che io... Però sai, siccome a me veramente personalmente non frega un accidente di essere vista, io vado.